Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo quiz di StumbleGuys Allora ragazzi, oggi siamo qui in un nuovissimo quiz di domande di StumbleGuys Allora, praticamente voi e anche io dovremo indovinare queste domande di StumbleGuys Iniziamo subito Allora, intanto che conta il timer, non c'è un countdown che metterò editato, ma ci sarà lei Ciao Alexa, Alexa ciao Ciao grande Ecco qua, c'è Alexa che ci conterà il timer Quindi io direi di iniziare Quante skin ci sono su StumbleGuys? Alexa, metti un timer di 15 secondi Partiamo con 15 secondi 15 secondi? A partire da ora? Allora, le gambe di skin su StumbleGuys ne stanno uscendo un sacco, proprio un sacco Quindi io vi direi circa sui 300-400 Io sul sicuro vedo sui 400, non si sa mai Ok, il timer è scaduto quindi non potete pensare più, questa domanda è finita Alexa Stop Allora, vediamo se è giusto Godo, prima indovinata, 400, circa 400 Andiamo con la prossima domanda Allora ragazzi, prossima domanda, eccola qua Quante gemme costa la ruota rara? Alexa, metti un timer di 5 secondi, regà, ma questa è facilissima 5 secondi, a partire da ora? Cioè, sono 90 gemme, regà, ma per forza ho dovuto mettere un timer di 5 secondi Ecco Alexa, stop Almeno spero che l'avete indovinata Giusto per, vediamo se è giusta E ovviamente è giusta Quante modi speciali ci sono su StumbleGuys? Allora raga, questa è un'altra domanda facile Quindi metteremo, Alexa, metti un timer di 10 secondi 10 secondi? Troppo facile questa Allora, io direi che ce ne sono circa 10 perché ne stanno uscendo tipo un sacco Ok, Alexa, stop Vediamo Vediamo se sono 10 o ne sono di più o meno Wow, le sto indovinando tutte 10 Andiamo con la prossima domanda, raga Oh mio Dio, che cos'è questa cosa? Skin epica, indovinare le probabilità Oddio Cioè, noi dobbiamo indovinare le probabilità Va bene, Alexa, metti un timer di 15 secondi Questo è un po' difficile 15 secondi A partire da... Allora Leggendare dovrebbe essere circa 10-11% Poi, Epica dovrebbe essere circa sugli 80 Non so bene E speciale 1 Vediamo, Alexa, stop Stop Allora, vediamo se è giusto No, vabbè 10-11% sulla leggendaria che l'aveva azzeccato Speciale 1 Epica 88 Wow, io ho detto 80 però C'ero quasi, raga C'ero quasi Oh mio Dio, un'altra Skin comune Davvero ruota comune Indovina pure quale le probabilità Di compenso e probabili Oh mio Dio, dobbiamo indovinare comune, non comune Epica, rara, legge Vabbè 20 secondi almeno Alexa Metti un timer di 20 secondi 20 secondi A partire da ora Allora Andiamo Allora Comune Io sulle comune Dico circa 30 Non lo so Raga, perché se mi ricordo bene Dovrebbe essere circa Dai 30 ai 35 Una roba del genere Poi La non comune 20 Wow, già Alexa Metti un altro timer di 20 secondi Raga, è troppo 20 secondi A partire da ora Non comune Alexa Metti un timer di 20 secondi Secondo timer Alexa Mamma mia questa Alexa Annulla tutti i timer Alexa Metti un timer di 20 secondi Terzo timer Alexa Ma questo è Alexa Metti Elimina tutti i timer Sto cancellando tutti i tuoi timer Mamma mia Mamma mia Metti un timer di 20 secondi Mamma mia 20 secondi A partire da ora Allora comunque Ho detto Comune 35 Non comune 30 Penso che sia Epica Epica Dovrebbe essere Un po' bassa Perché Penso 10 Rara 30 non può essere Ve la butto così 20 25 E leggendaria Vediamo se è tutto giusto Vi ricordo Comune 35 Non comune 30 Se ricordo bene Epica 10 Rara 25 E leggendaria Che mi ricordavo una Vediamo Oddio 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 Solo che Epica è 9 Però Ma che memoria Che ho su StumbleGuys Ancora Probabilità Su La ruota Fortuna Ovvero Dobbiamo indovinare Quelle Le probabilità Delle gemme E Gettoni Skin Oddio Raga Alexa Alexa Metti un timer Di 10 secondi Vai che questo è poco 10 secondi A partire da ora Allora Gemme Dovrebbe essere Una Percentuale Molto alta Vi dico 50 Perché Raga La vedo Ogni 15 minuti Poi Alexa Stop Stop I gettoni Stumble 25 E Le skin 25 Perché 25 Più 25 Fanno 50 50 Le gemme Fanno 100 Quindi Oh raga Andiamo con La prossimissima Domanda Ragazzi Allora Qui Non mi vedete Perché Praticamente Non c'era Spazio Indovina I prezzi Raga Oh mio dio Oh mio dio Questo è molto difficile Va bene Va bene Va bene Alexa Metti un timer Di 30 secondi È troppo 30 secondi A partire da ora Allora Iniziamo 250 gemme Vabbè Penso 2 euro 1 euro e 99 Penso Perché Sambul gas Fa tutto 99 Quindi Ve la butto Così A 2 euro 800 gemme Circa 7 euro Non mi ricordo Bene 120 Gettoni Stambul 6 euro Vi dico 1600 Gemme Alexa Metti un timer Di 20 secondi 1600 gemme 20 secondi A partire da ora Dovrebbero corrispondere a Stop Stop Ok 1600 gemme 8 euro Questo me lo ricordo 5000 gemme Penso 25 euro E 1300 Gettoni 50 euro Vediamo Ok Alexa Stop Vediamo se è giusto No Ho sbagliato un po' di cose Allora 250 gemme Le ho indovinate 800 gemme Le ho indovinate 120 gettoni No Perché costano 6 euro 5 euro e 99 No Però 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 Andiamo con La prossima Oh Questa è la domanda Che mi piace Quanto costa Lo Stambul Pass Alexa Metti un timer Di 7 secondi È troppo facile 7 secondi A partire da ora Regà Ve lo dico 1200 gemme Cioè ma regà Ma è facilissima Sta domanda Ma che C***o di domande sono Cioè Sono facilissime Alexa Stop Stop Vediamo se è giusta Oh Stop Ok Vediamo se è giusta Eh Raga È giusta C'è la mappa Oddio Indovina i nomi Delle mappe Allora Regà Per questo Per chi non lo sa Sarebbero Tipo Quando Andiamo sulla partita Personalizzata E troviamo Tipo qua I Di che genere Mappa Vuoi Allora Iniziamo Questo dovrebbe essere Corsa Perché dall'immagine Si vede Poi Poi Secondo Stumble Stumble In prima persona Questo me lo ricordo Terzo Vabbè Teschio Vuol dire Eliminazione Vabbè Qua guida Perché No Alexa Metto un timer Di 10 secondi 10 secondi A partire Poi Questo qua Della ruota Ovviamente È guida Raga Vabbè Con tutti Gli Stumble Squadra E Poi Con le monete Penso Guadagno Ma Alexa Stop Vediamo Se è giusto Ho Indovinato Solo che Era l'ultima Era raccolta Non ci Credo Vabbè Raga Allora Iscrivetevi Al canale Se avete Indominato Tutte le domande Che vi ho fatto Comunque Per chi si sia chiesto Perché in questi giorni Non ho più pubblicato Video La motivazione Andrete A vedere Prima di questo video Quindi ragazzi Al prossimo Video Ciao Ciao